Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo, spero solo che non sia tardi. E questa cosa però si è già ritorta contro di noi, perché a quanto pare qualcuno ha pubblicato il video di noi che attiviamo la bomba. Io intanto ti direi di dirigerci già verso la zona della missione. Però scusami, poteri ne posso già sbloccare oppure no? Allora, questo ci ripristina l'energia ogni volta che colpiamo qualcuno, una buona parte. Però io vorrei... vorrei ottenere già... beh, la riduzione dei danni non sarebbe male. No, io volevo ottenere il... la planata. Però vabbè, aspettiamo. Intanto qui... Qualcuno... Sta facendo lo stronzo. E via, anche il razziatore e siccome sono criminali merdosi... Ecco fatto. Dove... dove vai? Maledetto stronzo. Ed ecco fatto. Dobbiamo farci voler bene dalle persone. Io ce l'ho già l'abilità di cura? No, non ce l'ho ancora. Peccato. Oh, c'è ancora qualcuno che... Qualcuno che spara, dicevo. Colpito, ma non affondato. Allora, aspetta un secondo. Avrei bisogno di curarmi. Becca e porta a casa. Perfetto. Sai cosa? Io... Posso già prendere la riduzione dei danni? No, mi mancano ancora 40 punti. Speravo di essere già... Abbastanza avanti. Sai che ti dico? Quasi, quasi, io... Salgo sul palazzo per ucciderli. Perfetto. Vai, Cole. Perfetto. Ah, ma tu eri lì. Ecco perché mi beccavi facile. Maledetto stronzo. Pezzo di merda. Ah, è già morto. Fantastico. Ma da dove sono apparse adesso quelli? Vabbè, io intanto... Mi occupo di quello che era qua sul tetto. Che... Eccolo qua. Ciao, Franco. Vola via. È morto? Sì. Oh, ma ce n'è un altro. Ah, buongiorno. Vieni qua. Dammi un po' di energia. Ah, non faccio ancora lo scatto. Cavolo. Madonna me. Io sto... Sto avanti con... Con gli attacchi. Ma in realtà ancora non abbiamo nulla. Da dove è il nemico? Ah, eccolo là. C'è una fonte di energia che posso... No? Allora, è sicuro che se continuiamo così... Ce la rischiamo, ma male anche. Però ascoltami. Voglio... Voglio ucciderli. Voglio veramente uccidere tutti qua. Aspetta, 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 aspetta. Ecco fatto. Ecco qua. Ucciso. Mi dispiace... Mi dispiace, dicevo, aver girato la macchina di quel tizio, ma è un danno collaterale. Dai che ti butto di sotto. Vieni. Vieni che ti faccio fare... Un bel volo. Dannazione che soddisfazione. Madonna mia. Forse... Eh, vabbè. Mi dispiace. Non ho il tempo di guardare la televisione. Io devo uccidere sti stronzi. Chiudo. Eh, lo so, voce della sopravvivenza. Non c'è una fonte di energia che posso... No? Oh, calmo. Un trasformatore mio. Ecco fatto. Ma troppa gente. Dove mi sto andando a cacciare? Che sto facendo? Ecco fatto. Colpito in pieno. Vola via. Dice... Vola via. Bastardi. Madonna mia. La soddisfazione di tirarti una testata non me la levo, eh. Ecco fatto. No, peccato. Volevo buttarlo di sotto. Oh, finalmente. E direi che ci siamo guadagnati probabilmente qualche punticino extra, no? Siamo a 677. Vabbè, va bene, va bene. Riduzione dei danni sia. Ecco fatto. 10%. Mica male comunque per iniziare, dai. Allora, col. Dobbiamo andare da questa parte. Guarda un po', c'è un altro nemico anche da quella parte. Non ce ne andiamo finché... Dio mio. Non li abbiamo uccisi tutti. Comunque, queste sono quelle cose che mi fanno adorare questo gioco, veramente. Ovviamente, i movimenti di call per essere, lo ripeto, un gioco PS3 sono fatti benissimo. Ma poi partiamo da un presupposto. Non vuol dire nulla che, essendo un gioco della PS3, c'è da stupirsi. Ma perché, se ci pensi, la PS3 già al tempo era mega innovativa su queste cose. Era mega innovativa. Quindi, cioè, il fatto che Cole faccia queste cose adesso sembra normale. Ai tempi della PS3, invece, era già una novità assurda. Via! No! Dai! Ecco fatto! Addio! E caduta libera. E... Boh, basta, dai, io... Direi di dirigerci... Putza! No! Eh, vabbè. Mi sono ammazzato da solo. Quanto vorrei avere già la planata, però, dannazione. E niente, sono già tornati i miei titori, però... Devo andarmi, perché, se no, io continuo a combattere e non avanziamo più nella missione. Non mi ricordo se era in questo capitolo o era nel secondo che faceva il salto potenziato dalle macchine. Forse nel 2. Cioè che se ti appoggiavi una macchina e poi saltavi, faceva un salto alto. Faceva un salto alto. Eh, vabbè. E' venuto lui, eh. E' venuto lui a combattere. Io stavo andando per la mia strada. Scusami. Ecco fatto. Le uccisioni dai tetti sono uccisioni facili. Comunque, davvero, andiamocene via, perché se no... Io continuo ad ucciderli e non avanziamo più. Non avanziamo più. Tanto prima o poi la gente mi amerà. Non ho ancora il potenziamento per curare la gente. Curare la gente è un facilissimo modo per aumentare il nostro karma positivo. Ucciderli è un modo facilissimo per aumentare il nostro karma negativo. Ma, allora. E' un fatto. E' veramente un fatto. Che fare probabilmente in moltissimi giochi in cui ci sono le scelte karmiche. Fare le scelte karmiche cattive. E' sempre più facile che fare quelle facili. O meglio, dipende. Dipende un po' anche dall'emotività della persona che gioca. Per carità. Però, cioè, fare il karma cattivo è facile. Basta uccidere gli innocenti e... Che è successo? Gli innocenti sono pressoché ovunque nei giochi. Quindi, è molto più semplice uccidere un civile che salvare... Non lo so. Una nazione, per dire... Dalla guerra. Ecco fatto. Comunque, eccoci arrivati al punto della missione. La fuga. Sì, è anche la più complessa. Certo. Come no. Come facciamo a passare? Scelta karmica. Semplice. Siete entrati in un'area proibita. Qui è consentito l'uso letale della forza. Per favore, tornate nelle vostre... Dobbiamo superare quei poliziotti per uscire. Se friggessi un paio di guardie tra la folla, scatenerei una rivolta. Io e Zeke passeremo inosservati. Ovviamente un sacco di gente innocente se la vedrà brutta. Che novità. Momento, attacca i poliziotti. È solo colpisci, li stanno in mezzo alla folla e scateno una rivolta. Vabbè, vado da solo. Azione buona. Un atto buono rafforza la tua buona reputazione. Eh, lo so. Facciamoli fuori! È un atto buono! Non ho mai detto che è un atto intelligente. Che succede? Oddio. Si era bloccato in un punto totalmente a caso. Madonna mia che combo incredibili che stiamo tirando fuori. Via il poliziotto. Via il poliziotto. Addio al poliziotto. Addio al poliziotto. Addio al poliziotto. Si lo so, lo so, lo vedo il gioco. Però ho anche bisogno di ricaricarmi. Questi qua sono i modi più semplici per riprendere la vita. Perfetto. Qualcuno forse... Perfetto. Calmi tutti. Ma questo c'ha... Ma... Ok. Ma hanno i... I lanciafiamme, sti pazzi. Ma sono impazziti questi. Allora, aspetta. Non potevo distruggere le armi una volta. Magari nel 2. E addio al poliziotto. Io ho bisogno di ricaricarmi. Non l'ho colpito mai, vero? Allora, aspetta. Ecco fatto. Dicevo. Bellissima combo. E addio al poliziotto. Ah, ecco. Vedi che allora potevo romperle. Io me lo ricordavo. Me lo ricordavo che potevo farlo. Scusami, sono punti esperienza gratis. Se posso farlo anche con l'altra, volentieri. Ma bene che sono 5 punti. 5 punti adesso, però, fanno sempre comodo. E niente, questa qua no. Tutte si possono fare. Quella no. Proseguiamo intanto. E apriamo un altro portellone. Se non sbaglio, il terzo portone... Oh, e ho capito. Sarai un bersaglio difficile da colpire. Eh, sarà un bersaglio difficile da colpire. Tua madre è un bersaglio difficile. Contro il personale non autorizzato, sarà usata indiscriminatamente la forza. Questo è l'ultimo avvertimento. Eh, certo. Perché voi potete, io no. Allora, aspetta, posso ucciderlo? Ecco fatto. Aspetta. Vabbè, facciamo così. Ah, ma... Ok, no, io pensavo che era... Un'altra torretta. Eh, allora... Eh, vedi che c'era la torretta, allora. Via. Ecco, fatto. Eh, ce la faccio a beccarlo? Direi proprio di no. Ma... Ah, dannazione. Mi son messo nella linea di tiro sbagliata qua. Mi son proprio messo nella... Nella zona più sbagliata. Perfetto. Facciamo così. E... Via. Perfetto. Bruciamo la torretta. Lanciamo via. Ma perché le esplosioni mi shottano prima di arrivare a ucciderli? Che cazzo? Ah, va via. Ecco fatto. Allora, aspetta. Non vedo. Ecco fatto. Allora, aspettiamo di curarci un secondo. Curati. Ok, perfetto. Bruciamo lui. Ma... Call. Porca di quella puttana. Tu hai la telecamera? Oh. Allora. Facciamola semplice. Uccidiamolo. Uccidiamolo. No. Colla, aspetta. Uccidi anche quello là in fondo, per favore. Perfetto. E così ci siamo già levati... ...i soldati a piedi. Leviamoci dalle scatole questo. Dov'è? Ecco fatto. Bruciamo la torretta. Ecco qua. E stavolta... No, scusami. Ho colpito un civile per sbaglio. Eh, vabbè. Ecco fatto. Qua ci posso salire? No. Ok. Ah, ma buongiorno, eh. Ecco qua. Merda. Aspetta. Ecco fatto. Oh, ed ecco qua. E addio. Eh, certo. Tutto quello che volete. Perfetto. Carico, carico, carico. Tanto questo dovrebbe essere... ...l'ultimo. Sì, anche perché tu non puoi andare in acqua. Quella gente dell'FBI, Moia, aveva visto il filmato di me a Ground Zero e mi aspettava certa che avrei tentato una fuga. Sapeva dei miei poteri. Mi spiegò che prima dell'esplosione suo marito John era riuscito a infiltrarsi nei primogeni. Che tra l'altro... ...un gruppo segreto che lavorava con un progetto chiamato Raggiosfera. Un congegno pensato per prelevare energia neuroelettrica da un gruppo di persone, per concentrarla in un solo individuo. Non aveva più contatti con John dall'esplosione. Nonostante il suo potere, stava perdendo speranza. Ma mi trovò, pensando di potersi fidare di me, pronta a farmi un'offerta. Dovevo tornare in città, trovare John e la Raggiosfera e, in cambio, lei mi avrebbe liberato dalla quarantena. La Raggiosfera mi sembrava un pretesto, ma era una centrale elettrica umana. Dovevo darle una possibilità. Era una centrale elettrica umana. Ma poter... A casa della rivolta, questo è l'unico modo per rientrare in città. Vista la natura della nostra collaborazione, ho pensato di clonare la frequenza del tuo telefono. Ho un segnale sul tuo GPS e posso sentire tutto ciò che dici. Ottimo! Fantastico! Ecco, fatto! Calmo, Cole. Che i salti sbagliati qua... Significano... Morte. Qua non è stata colpa mia. Non è stata assolutamente colpa mia. È stato lui scemo che non si è aggrappato. È finito sulla parte tonda e non ha... Fatto il grip. Ecco qua. Che tra l'altro questo non ci servirebbe neanche. Basterebbe fare così. Risolto il problema. Ecco qua. Questo invece è un pochino più complesso. Prima tra l'altro, prima di registrare, ho voluto vedere se esisteva una run di questo gioco. Un filo particolare. Volevo vedere se esisteva una neutral run. Una run neutrale. Nel senso, per quanto molti di voi, immagino, avranno capito, questo gioco ha molte scelte karmiche. Già dall'uccidere le persone o meno è una scelta karmica. Ma io mi farò a menti dell'esplosione. Uh, è vero. Eccoli dove si ottengono. Le scelte karmiche portano punti non solo esperienza ma anche karma. Ed è già palese che uccidere un ne... Che succede? Cos'è? Cosa mi sta col... Cosa mi ha fatto tutto sto male? Cosa mi ha... Mi stava uccidendo, scusami. Il vapore? Ah, oddio! E chi... Chi l'aveva visto? Minchia. Ok. Ma... Quelle luci lì non posso ciucciarmele, no? La pressione dell'acqua è calata nel condotto principale sotto il ponte. Che succede laggiù? Ah boh. I miei titori spaccavano dei tubi. Interessante. Vedrò di scoprire qualcosa. Trova il modo di rientrare in città. Dio mio. Allora. Ecco, fatto. Dobbiamo fare attenzione che qua... I tubi... L'ho preso. Ora sì. Che soddisfacente è. Certo. Aha, certo. Chiaro. Come vuole, mia cara. Ok, qua dobbiamo sbrigarci perché... I tubi... Crollano in fretta. E... Risolta. Risolta. Cole. Amico. Felice di vederti. La fuga. Missione completata. 500 punti di speranza. Il tuo azione ti ha reso più eroico. 3 accorbazie eseguite. Migliore accorbazia. Qualcosa di personale. Eliminazione ambientale. Grazie. Il tuo cancello schiaccia sassi. Diavolo. Sono sopravvissuto al volo senza problemi. Eh beh. Ma tornare a riva, beh. Diciamo che non sono Michael Phelps. Per usare un eufemismo. Ehi, rilassati parafulmine. Come diavolo sei riuscito a sopravvivere? Con tutti quei proiettili dappertutto. Pensavo fossi spacciato. Andiamo a casa. Ti spiego strada facendo. Bravo. Pressoché chiunque può resistere all'avversità se si mette alla prova tra l'empera dell'uomo e dagli potere. Abram Lincoln. Certo, Zeke. Posso portarla qui? Certo. Potrei chiedere aiuto. Ah, al diavolo. Zeke Gededia D'Ambar è autosufficiente. Il tuo secondo nome è Gededia. Come mio nonno. Un uomo forte per la sua taglia. Non so da dove venga, Zeke. Ma sono certo... Hai bisogno di un sonnellino e un bagno. Io ho da fare. Ecco, a proposito di bagno. È palese che lui... Ah, eccolo lì, un trame dell'esplosione. Le coordinate sono state caricate sul tuo telefono. Fammi sapere quando sei in posizione. Certo, signora. Importante. Ricevi punti esperienza per il combattimento di missioni eseguisi? Ok, grazie. Ah, già. Giusto. Possiamo già sbloccare le cose. E io ti direi... Vediamo. Cosa possiamo ottenere di utile che non sia la riduzione dei danni? L'elettrodrenaggio non sarebbe male perché ci ricarichiamo prima, effettivamente. Però a sto punto aumentiamo la saetta e facciamola finita. Aumentiamo già i danni e... Guarda un po'. Frammento dell'esplosione. Quindi, signori. Vi ringrazio a tutti per avermi seguito come non solitamente seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti.